...in diretta perché vogliamo così intervistare il nostro amato Sergei, il grande della fotografia e delle video. Sergei, benvenuto in Radio Crossover. Buongiorno a tutti, sono Sergei Kaoschka, fotografo e cameraman. Allora Michela, noi ormai fa parte della nostra famiglia lui, perché ci sta ovviamente sempre onorando con la sua presenza e con le sue bellissime fotografie che diventano ricordi. Per i bellissimi video, che sono tutti pubblicati anche su YouTube. Sì, in zero tempo, tu sei fantastico perché riesci, noi sappiamo che domani mattina saremo già su YouTube. Perché c'è un sito di notizie che devo fare più possibile, più veloce. Eh sì, io vorrei sapere da te come nasce la passione per la fotografia. La passione è che si ferma un momento più bello, un più bello momento di fermarsi, una passione. Quindi per te la fotografia e il video è una passione. Sì, è una passione. Ma quello che abbiamo notato è che tu ti fermi molto sulla bellezza, ti piace fotografare la bellezza, le donne. Si chiama un scemo. La bellezza piace a tutti. La bellezza piace a tutti, ma a te in particolar modo, anche perché non ti fai scappare neanche un evento. È vero Michela, lui riesce... È presente dappertutto. Io non so come riesci a farcela, ma è sempre presente. È sempre presente, non ti scappa neanche un evento e ti piace essere un po' dappertutto. Sì, mi piace essere dappertutto, mi piacciono le persone, mi piace vedere come parlano, come... Come? Sì, sì, ma... Non ti distrarre, eh! Mi piace fare le foto, ma non mi piace essere fotografato. Eh, infatti, la camera ti distrae. Ok, quindi stavamo appunto dicendo che scegli, ti piace fotografare molto le donne, perché ho visto seguendoti che scegli, se dovessi scegliere, ho visto che scegli la bellezza e meno magari degli eventi diversi. Se ti capitano due eventi nello stesso orario, lo stesso giorno, tu scegli, hai sempre scelto più che altro la moda. Sì, perché c'è una grande categoria nel mio sito, si chiama fashion, moda, per questo che, diciamo, è piena di fotografie, di video e questo genere. Per questo sì, scelgo di più di moda, perché vedo che Torino ultimamente diventa una città, quasi quasi arriva come Milano, sono moda. Quindi, Serghe, per chi vuol vedere le tue foto? Dove devono andare? Su che sito? Il sito si chiama newseventsturin.net E invece sulla pagina Facebook? Sulla pagina Facebook c'è anche la pagina Facebook, c'è la 4.500 followers, si chiama anche Newseventsturin e come fotografo Kaushka Photography, un'altra pagina. Però ormai è talmente conosciuto Michela che secondo me la gente lo riconosce anche, basta quando ti vedono sanno già dove ti possono trovare, anche perché ormai ti sei fatto conoscere in mille modi. Sì, partecipo a tanti eventi, c'è tante persone che me conoscono, infatti che qualcuno che mi salutano non mi ricordo più, perché ogni evento 200 persone, 300, 500 persone, domani un altro evento, già non mi ricordo, mi dispiace, però... Allora, dobbiamo dire che Sergei, a parte seguire la moda, lui comunque fa video e foto anche ai matrimoni, ai battesimi, alle feste private, vero Sergei? Sì, faccio anche questo, ho fatto un sito che si chiama fotovideo.montabottes.it e faccio qualche volta quando c'è tempo, faccio anche questo. Però mi sa che tu sceglieresti di più magari la moda, seguire la moda, la bellezza, la donna. Certo, certo che... Però ovviamente tutto il lavoro è... beh venga il tutto, no? Sì, faccio tutto, tutto possibile, tutto, un po' di questo, un po' di questo, ma la moda è un po' di più. Abbiamo capito, è innamorato dalla bellezza, Sergei. E possiamo sapere dove vai, in che evento vai? Più tardi? No, c'è oggi una festa privata, c'è un musicista, si chiama Yuri Seco, che lui fa anche questi eventi qua. E lui ha un compleanno oggi, e quindi fa anche le feste private. Quando io voglio le invitato a tutti. Li facciamo auguri in diretta? Assolutamente sì, e quindi sul compleanno, gli facciamo tanti auguri e... Yuri, auguri! Yuri, auguri, buon compleanno! Auguri da tutti quanti di qua! E facciamo gli auguri anche a nostra Sara, la nostra costumista, perché anche lei oggi fa gli auguri, insomma, un sacco di compleanni oggi. Sì, sì, auguri anche a Sara! Auguri anche a Sara! Allora, Sergei, grazie per la tua disponibilità, noi ti amiamo, tua moglie, lo sappiamo, ormai non è gelosa, perché sei veramente amato da tutte le donne che ormai ti hanno conosciuto. Grazie per il minuto, ci vediamo presto! Assolutamente sì, e io spero che in Radio Crossover ti sia trovato bene. Una famiglia allargata, noi lavoriamo così, abbiamo l'equip al completo, e quando andiamo in giro abbiamo tutto quello che ci serve. Dalle foto, alle riprese, alle bellezze, ma anche alla grande organizzatrice, nonché Michela. Sei anche attrice? Sì, io ho fatto attrice per molti anni, ho fatto università, ho lavorato in cinema e teatro in Ucraina, in Russia, a Mosca, ho viaggiato tantissimo con i progetti. E poi mi sono trasferita qua, mi sono autoinventata, sono celebrante dei matrimoni, quindi con Sergei Kauska abbiamo lavorato un po'. Grazie a lui ho venuto a sapere di questo concorso, ho deciso di partecipare giusto così. Ci facciamo però riprendere da Sergei Kauska, fotografi News Events Turin, perché è il primo in Turino, in tutto Piemonte, in Italia, in Europa, ma che dico, in tutto il mondo, che riesce a realizzare foto e video in zero minuti. Pensate, ma non fa mai domenica la sera prima di andare a dormire e fa il video. No, lui è un vegetale ormai, non dorme più. No, ma io una cosa voglio chiedere, voglio chiedere, di nuovo, com'è chi si chiama? Lui si chiama Sergei. Eh, quello che ha detto una serie di... News Events Turin. Un misto inglese piemontese, così. Notizie Events Turin. Non ti cazzare, era per dire. Ah, mamma mia, come per maloso. E poi abbiamo la bravissima... Ma sei una moglie, sei? Sì. Sicuramente. C'è Natalia che lo sopporta e lo supporta in giro per tutti gli eventi. Perché siamo un po' come te. Eh, sì. Siamo uomini di spessore noi. Hai video una semelianza voi? Eh, la semelianza. Diciamo che abbiamo la stessa sagoma quasi. Ma avete qualcosa insieme? No, ma noi siamo in diretta video, solo audio. Solo audio, solo audio. Perché quando voi non vedete, a parte le bellezze. E poi vedranno, poi vedranno. Siamo in uno stanzino che già io da solo lo riempio tutto. Poi c'è anche Stargate qua, come si chiama? Che non mi ricordo più. Sergei, Sergei. Ma Sergei, ma... Si inglese, si inglese. Sergio, in italiano. Eh, si incazza, ma perché si incazza? Mamma mia, non dico più niente, basta. È russo. È russo. È sì, i russi si incazano subito. Sì? Sì, è un russi di notte, è fantastico. Penso, una coppia da vincente.